ciao a tutte ragazze bentornate in un nuovo video allora in anteprima sto registrando il video con le nuove unghiette qui ho utilizzato due colori autunnali di la fan professionelle ho voluto ricreare una mandorla ibrida infatti ho fatto una misura numero 4 i fili diciamo i ghirigori molto sottili li ho fatti con la polvere acrilica quindi una volta sigillato sono andata semplicemente a buttarci su sul colore ancora bagnato della polvere acrilica in modo da farlo rimanere in rilievo insomma queste qui sono le unghiette allora vado a spacchettare subito il nell'ordine che ho fatto su passione unghie perché sono tante cose o meglio tanti tanti colori quindi voglio un po sbrigarmi onestamente non ho proprio aperto nulla la prima cosa che troviamo sopra la scatola è il de plian per quanto riguarda passioni beauty e cominciamo allora la prima cosa che trovo è questo pacchettino che non so cosa tengo contenga all'interno ok due colorini che ho preso mi pare siano colori che ok si oro rosa flash che è un colore che sta per terminare a breve con i colori autunnali sicuramente tornerà in voga quindi quello che non basta poi poi ho preso jackie che onestamente se non sbaglio è un color zucca può essere sì eccolo qua molto molto carino molto molto autunnale i colori ovviamente non riesco a farveli vedere stesi tutti perché sono veramente tanti una volta stesi poi vi faccio vedere l'effetto finale poi come sempre ho preso le lime queste qui ormai sono le mie preferite al momento non so quanto durerà questa passione però per il momento mi ci sto trovando molto bene ho preso un pacco di lime adesive da 180 e un pacco di lime adesive da grana 100 quindi da una parte della della dell'anima ci metto la 100 dall'altra ci mettono a 180 poi ho preso questa qui che era in offerta ed è appunto la questa punta per le cuticole per la rimozione delle cuticole per la dry manicure diciamo io non effettua dry manicure però voglio provare a vedere se con questa riesco a togliere un po di cuticola o meglio a eliminarla totalmente poi abbiamo l'omaggino che in questo caso è arancio fluo con un mix di glitterini bianchi all'interno molto carini e utili soprattutto perché io comunque li utilizzo per fare l'effetto zucchero poi ho preso un pacco di buffer questi qui da dieci pezzi che costavano circa 5 euro se non sbaglio poi ho ripreso master rose che è diventato uno dei miei costruttori preferiti quindi bravo passione unghie perché hai creato un costruttore che mi piace soprattutto validissimo se non avete visto il video dove lo vado proprio utilizzare ve lo lascio linkato qui poi una novità sul sito ho preso i i cilindretti questi qui per andare a inserire la cartina nel modo corretto dato che come sempre io tutti gli inverni o meglio autunno inverno acquisto sempre corsi online questa volta ci sono appunto i cilindretti quindi sono andata ad acquistarli quindi visto che erano una novità li ho presi onestamente non li avevo ancora acquistati ho approfittato dei saldi per fare scorta di colori che magari non sono riuscita ad acquistare nei mesi passati e che quindi mi interessavano le ho presi a poco prezzo insomma poi vi faccio vedere la nuova collezione anzi vi mostro la scatola autumn vibes eccola qui e tra un po l'andremo a stendere insieme però prima voglio farvi vedere i colorini che ho acquistato tra i colori che ho preso perché stavano terminando ho preso questi qui ho preso sienne che è l'SP86 poi ho preso hollywood che è l'SP27 poi kiss SP32 vanilla SP42 e infine ho preso grace SP89 che sono quelli diciamo che vanno di più e che quindi ormai o almeno per quanto mi riguarda vanno di più e quindi li ho ripresi perché sono sempre comunque agli scorcioli ora vi faccio vedere invece una collezione che mi ero fatta scappare perché onestamente non la trovavo entusiasmante ecco eppure dato che erano in offerta ho voluto prenderli perché non si sa mai possono sempre servire questi qui ora li andiamo a stendere questi qui se non sapete le colorazioni vi lascio il video dove vi faccio vedere tutti i miei semi permanenti di passione e unghie che poi ovviamente se volete vi faccio un video aggiornamento perché ovviamente sono cambiati alcuni non ce li ho più alcuni ovviamente sono aumentati o comunque ne ho eliminati tantissimi tra quelli però se vi interessano queste colorazioni vi lascio il video qui di tutti i miei semi permanenti passione e unghie e potete andare a visionarli ora non voglio aprirli perché comunque sono nuovi e mi dispiace quando poi magari mi serviranno li aprirò ora invece volevo andare a creare le etichette per questi colori e li vado a stendere allora ho deciso di farvi vedere la stesura di della prima della prima passata di colore poi dopo vi faccio vedere il risultato finale con questa prima collezione macaron insomma se non erro si chiamava proprio così macaron vediamo un po eccolo qui questo qui è giallino color crema con all'interno i pezzettini neri effetto caviale eccolo qua devo dire abbastanza coprenti ci sono anche abbastanza puntini neri all'interno quindi perfetto questo qui appunto si chiama cream macaron ora andiamo avanti con chantilly macaron che lsp 235 eccolo qua lo andiamo a stendere molto simile al primo devo dire infatti noto pochissimissima differenza forse questo ha un tono più bianco più rosato rosa bianco invece quello lì era un po più giallino insomma comunque questa qui è la prima stesura che devo dire già abbastanza coprente continuiamo con sp 236 che amarena macaron quindi questo qua dovrebbe essere più rosa sono molto simili come pigmentazione alla linea coco alla linea coco quella che è uscita nel mese di agosto se non sbaglio io sono uscita pazza ho fatto tantissimi effetti con i flakes all'interno e appunto a breve arriverà anche un video tutorial per quanto riguarda proprio un vi devo fare un video tutorial dove all'interno c'è anche quell'effetto quindi stay tuned aspettate un attimino perché comunque ho tantissimi video da caricarvi altri sono ancora in fase di montaggio insomma ho tantissimi video da caricarvi quindi non vedo l'ora poi andiamo avanti con berry sweet macaron che dovrebbe essere questo color lilla vediamolo eccolo qua molto carino anche lui devo dire bellissimo bene dai sono contenta perché sono molto molto coprenti spero vadano in realtà ho deciso anche di fare un decluttering dei miei colori a breve o meglio quando avrò un po di tempo poi abbiamo sp 238 che blu mint 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 vabbè comunque blu menta azzurro menta macaron ok eccolo qui molto molto bello anche lui davvero carino un bell'azzurro particolare poi sono dei colori molto molto delicati non sono per niente eccentrici sono sono molto soft devo dire proprio come i macaron devo dire io non esco pazza per i macaron però tutto ciò che riguarda magari colori pastello un po mi affascina non sulle unghie ovviamente perché non mi vedrete mai con dei colori pastello sulle unghie quindi questa qui era la collezione macaron che ho preso appunto in offerta a 3 ore 99 l'uno quindi saranno 4 per 5 a 20 euro anziché 34 e 90 come di solito loro mettono in offerta vado a fare la seconda stesura e ci rivediamo tra un po' ecco qui la collezione macaron stesa sono soddisfatta di questi colorini molto probabilmente li terrò in disparte per questo periodo natalizio comunque autunnale invernale che sia e magari li terrò fuori in primavera magari che sono molto molto carini anche un dito per un dito per ogni colore insomma molto 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 belli mi piacciono lasciano anche pochissima dispersione comunque mettiamo via loro e finalmente andiamo ad aprire la nuovissima collezione autunnale all'interno abbiamo sempre cinque colori di questa nuovissima collezione abbiamo soft sand lily flower rose garden gentle breeze wild forest che adesso andremo a stendere insieme come abbiamo fatto prima vi faccio vedere la prima stesura e poi successivamente vi faccio vedere i colori stesi ok iniziamo con soft sand andiamo vedere prima perché non li ho ancora aperti e siete i primi questo qui è un crema anche lui andiamo a spendere a quasi lo stesso colore della tip o comunque è un bianco sporco adatto comunque alla stagione autunnale bellissimo comunque molto coprente quindi top autolivellante perfetto già alla prima stesura molto molto carino vedete quasi non si distingue ma non è un bianco è appunto un bianco sporco quindi vado in lampada continuo a farvi vedere gli altri colori poi faccio una seconda stesura se sentite rumori ovviamente non sono io ma sono i vicini batteria scarica perfetto allora poi abbiamo sp 280 che lily flower andiamolo a vedere insieme bellissimo questo qui è un tortora molto chiaro adoro i tortora quindi probabilmente mi piacerà molto molto bello e uno di quei colori un po introvabili avete presente quella tonalità di colore che vi presenta la cliente ma puntualmente non avete che poi è una sorta di grigio barra lilla si può essere comunque questo qui è il colore poi andiamo avanti con rose garden che il sp 281 andiamolo a vedere insieme molto questo qui questo ci ho puntato parecchio perché era tra quelle tonalità che mi piacevano di più di tutta la collezione quindi ho detto speriamo che non non mi delude e infatti è veramente carino poi non so perché i colori di passione unghia hanno una cremosità tale da riuscirli a stendere in maniera veloce e poi si autolivellano in una maniera incredibile non trovate anche voi ecco perché molta gente non riesce a farne a meno comunque molto simile al colore che ho di la fam qui sulle unghiette continuiamo con sp 282 che dovrebbe essere questo azzurro cielo vediamo un attimino esatto molto molto bello è un azzurro autunnale si ha una punta spenta però devo dire veramente intrigante bellissimo sempre molto auto livellante e sempre coprente bello questa tonalità di azzurro non ce l'ho e comunque gli azzurri che io utilizzo di più al lavoro sono proprio quelli di passione unghia quindi credo che alla fine non non vanno neanche sprecati perché piacciono tantissimo bellissimi quindi questo qui poi andiamo avanti con l'ultimo che wild forest quindi un verde un verde foresta sp 283 questo è veramente carino molto molto bello un verde foglia un verde secondo me insieme a quell'azzurro sono fantastici belli belli una combo perfetta poi vabbè queste nuanze di colori mi piacciono io sono più per i colori autunnali non ci posso fare niente e comunque io non non vedo l'ora che esca fuori la collezione di la fam perché la famo quando fa i colori quando fai kit quando fa i kit stagionali io esco pazza comunque coprentissimo anche lui ora vado a fare la seconda stesura di tutti i colori poi torniamo con vi faccio vedere tutti i colori stesi e poi ci salutiamo ecco qui la parte finale del video qui sono tutti i colori che ho steso questa cui invece la collezione autunnale che parte dall sp 279 e finisce sp 283 devo dire che veramente molto molto carina sono soddisfatta devo dire che queste tonalità di colore forse forse ancora non ce le ho anzi ora che farò un bel decluttering vedrò un po di lasciare solo alcune tonalità comunque questi qui devo dire che non si allontanano molto come colori e secondo me insieme fanno anche una bella figura comunque ragazze questo era tutto quello che ho acquistato da passione unghie nel appunto nel mese di settembre perché c'erano i saldi se non avete ancora approfittato dei saldi vi invito a farlo perché comunque ci sono tantissimi tantissimi colori in offerta a 3 euro e 99 se non sbaglio se se non erro e niente io vi mando un grosso bacio e ci rivediamo al prossimo video ciao